Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono tornata con il solito appuntamento del lunedì con un'altra decorazione agenda. Questa settimana qui ho deciso di decorarla in questo modo, a tema fenicotteri. Siamo arrivati alla ventottesima settimana ed è la settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 luglio. Per decorare questa settimana ho utilizzato come wash principale questo qui che ho preso da Tiger, base color Tiffany con i fenicotteri. E poi questo mini wash slim sempre con i fenicotteri disegnati veramente piccoli piccoli piccoli. Ecco forse se riesce a intravedere qualcosina. Eccoli. Poi per scrivere i giorni della settimana ho utilizzato una semplicissima stabilo fucsia, niente di che. Poi ho scritto i miei impegni lavorativi, quando vado a fare la spesa, che cosa guarderò questa sera in tv, giusto per passare il tempo naturalmente, niente di che. Visto che a lunedì in tv non è che danno qualcosa ecco di chissà quanto wow. Quindi o mi leggo qualcosa oppure mi guardo il trash del trash. Comunque ok, tralasciando questa piccola parentesi. Allora, per quanto riguarda gli appuntamenti video. Allora, per quanto riguarda gli appuntamenti video. C'è questo qui di lunedì 8, che è il solito, che pubblico praticamente ogni lunedì, della decorazione agenda. Poi ci sarà un altro video, mercoledì 10, che sarà un video acquisti, dove ho preso veramente diverse cosine super wow. Tra cui vedrete anche proprio questi stickers qui a fenicottero che ho attaccato appunto in questa decorazione agenda. Li vedrete perché l'ho comprati all'Ocean, quindi ho già spoilerato qualcosa, però almeno vedete quando l'ho comprati, dove, quanto costano. E poi ho comprato altre cose veramente super carine all'Ocean, che erano in sconto. Poi ho comprato comunque ecco cose per la cartopazia, cura del corpo, veramente tantissime cose. Quindi se siete un amante della cartopazia vi consiglio di guardarlo, perché veramente ho trovato delle cose super super carine. Quindi non voglio dire altro, visto che già ho spoilerato gli stickers, almeno non dico altro, ecco. E che altro dire? Non credo che riuscirò a caricare un video venerdì 12, perché sono un po' incasinata, però mai dire mai, nel senso ancora non lo so neanch'io, quindi è un grande boh, onestamente. Quindi vedo se riesco, ma probabilmente non riuscirò. È tutto un po' da vedere, tutto un po' all'ultimo. E che dire? Allora, per adesso i due appuntamenti video fissi sono quello del lunedì, cioè questo qui che sto registrando e quello di mercoledì 10. E venerdì? Non lo so, onestamente non lo so. E che dire? Penso di aver detto tutto, in fondo è una decorazione molto semplice. Volevo attaccare dei cuoricini rosa qua e là, molto piccolini, però adesso vedo perché non vorrei renderla troppo piena. Cioè, nel senso, le mie decorazioni agenda, come potete vedere, alla fine si riempiono perché ci scrivo veramente tantissime cose. Però ecco, non la voglio riempire troppo questa volta, quindi vedo. E che dire? La decorazione agenda è questa. Spero che vi piaccia. Se vi piace, fatemelo sapere già nei commenti che mi farebbe piacere. E se volete essere salutati lo faccio con enorme piacere il prossimo lunedì. Basta che mi scrivete giù nei commenti che volete essere salutati. Che dire? Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su, ad iscrivervi al canale. Scusate per la mia voce ma sono veramente tantissimo raffreddata. Non so come mai ma io riesco a prendere il raffreddore d'estate. E che dire? Un bacione e ciao ciao al prossimo video. Ciao!